Quando devo prendere delle decisioni importanti cerco dei luoghi isolati, cerco il silenzio, cerco magari attraverso una camminata di mettere in ordine le idee. Siccome siamo alla vigilia di una decisione importante, il caso mi ha voluto qui, dentro un lavatoio, un lavatoio che ho trovato in una stradina di un borgo qui a Varese. Bene, voglio condividere con voi la scelta che riguarda il caso Diciotti e riguarda l'autorizzazione a Salvini. Dico subito che domani sulla piattaforma Rousseau metterò la casella Sì. Sì c'è stato l'interesse nazionale, sì c'è stata la difesa di un interesse nazionale, sì c'è stata una scelta politica da parte del governo. E quindi scegliendo Sì sulla piattaforma Rousseau chiedo che Salvini in qualche modo non abbia di che rispondere davanti al Tribunale dei Ministri di Catania. È una decisione importante, è una decisione che non c'entra nulla con tutte le decisioni che finora il Movimento ha preso riguardo alle autorizzazioni a procedere perché questo è una prima volta, è una prima volta importante, che non mette a riparo Salvini da reati o da accuse che riguardano la corruzione o cose del genere. No, qui c'è il Ministro Salvini dentro la collegialità dell'intero governo. Del governo del Presidente Conte, nel governo di cui l'altro Vice Premier è Di Maio e cui un altro Ministro competente e che comunque ha preso delle decisioni anche sul caso 18 Toninelli, hanno collegialmente condiviso quella che è stata la scelta del governo. Quindi la domanda che poniamo su Rousseau è la domanda che riguarda l'interesse nazionale. C'è una scelta politica. Il governo ha agito così in maniera molto ferma perché l'Europa ancora una volta si è distratta, ha voluto non prendere una decisione sperando che tutto si risolvesse nelle decisioni del governo italiano. Ma così non si può fare. Chi pensa di lavarsene le mani, come ha fatto l'Europa in tutti questi anni rispetto al tema delle migrazioni, stavolta deve fare i conti con un governo che ha deciso di decidere e che rimanda all'Europa le sue responsabilità politiche. Quindi abbiamo preso una scelta politica e la difendiamo. Quindi non è il processo a Salvini, come finora è stato detto nei mille talk e nei mille articoli di giornale. Non è una questione che isola Salvini dal governo. È una decisione di tutto il governo. Questo è fondamentale. Ecco perché sulla piattaforma Rousseau di fatto troverete la stessa domanda che coinvolge la Giunta e che coinvolgerà il Senato. Sì o no? C'è stato sì o no un interesse nazionale come idea guida della decisione presa dal governo. Per me c'è stata. Per me è stata una decisione presa collegialmente da un governo, è una decisione politica e quindi per questo è stata una decisione nell'interesse nazionale. Giusto o sbagliato? Poi saranno i nostri elettori a dire se è stata una scelta giusta o sbagliata, se stiamo applicando una politica fuori dal mondo oppure una politica che sta difendendo appunto un interesse nazionale. Ripeto, non c'entra nulla con tutti i casi in cui finora anche il Movimento 5 Stelle si è espresso e ha sempre dato le autorizzazioni a procedere. Perché nessuno vuole immunizzare un politico quando ci sono delle accuse che riguardano la corruzione, tanto per fare un esempio. Qui siamo in un contesto completamente diverso. La domanda che chi avrà voglia di condividere con noi sulla piattaforma Rousseau, la domanda che ci troviamo di fronte è se c'è stato o meno l'interesse nazionale. Cioè se quello sbarco è stato temporaneamente fermato per difendere un interesse nazionale, per difendere una scelta politica, per dire cara Europa qui abbiamo una situazione che o l'affrontiamo collegialmente oppure da qui non riusciamo perché è un tema che è europeo. È un tema che è politico ed è un tema che è europeo. Quindi questo è il concetto, questa è la messa a fuoco secondo me dell'interesse nazionale. Quindi io voterò sì al quesito che mi sottopone Rousseau e che replica il quesito che poi ci troveremo di fronte noi senatori. Sì c'è stata la difesa dell'interesse nazionale. Quindi volevo condividere con voi la scelta che ho maturato. Magari nei commenti avremo modo di dibattere. Vi prego di non farvi così contagiare da coloro che continuano a dire ah ma il movimento ha sempre negato le autorizzazioni a procedere. Certo ma qui siamo in un contesto completamente diverso. Questa è una prima volta e che come prima volta va assolutamente messa bene a fuoco. Quindi noi diciamo sì perché il governo ha agito intanto collegialmente e ha agito per difendere l'interesse nazionale.